Sì, una grande partita a tratti una prestazione veramente di alto livello da parte della mia squadra, se non erro abbiamo calciato verso la porta avversaria più di 20 volte e questo è un dato importante, però non è stato sufficiente per portare a casa i punti che avremmo certamente meritato, quindi siamo al lavoro già per correggere quelli che sono stati gli errori e soprattutto per cercare di mantenere comunque alto lo standard di prestazione e di livello e la qualità del gioco che abbiamo espresso. Sicuramente 7 punti sono meno di quanto ci aspettavamo, ma soprattutto sono meno di quello che avremmo obiettivamente meritato sul campo, perché comunque col Sorad al 96esimo vincevamo 2-1, col Termoli al 94esimo pareggiavamo la partita e a San Benedetto abbiamo perso da buona prestazione, ripeto, secondo me molto importante di livello. Però giustamente nel calcio contano i numeri, le chiacchiere valgono poco, quindi mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per lo staff che lavora con grande professionalità, mi dispiace soprattutto per tutte le persone che ci circondano e che quotidianamente stanno vicino alla squadra e la sostengono e la supportano, così come ovviamente dispiace per la proprietà e soprattutto dispiace per il Presidente perché i chilometri che ci separano, la distanza, il fuso orario, sicuramente il fatto che non possa essere vicino a noi amplifica un po' la sofferenza e quindi dobbiamo essere in grado ad invertire questa tendenza, lavorando ancora di più e migliorando quelle che sono magari le lacune e completando al più presto possibile il percorso di crescita di questa squadra. Allora, io ho tanti capelli bianchi, ma soprattutto ho tantissime cicatrici, metaforicamente parlando, che 36 anni di calcio mi hanno lasciato ovunque. Soprattutto queste mi dicono che ci sono dei momenti dove occorrono guardare le cose con degli occhi diversi e quindi non farsi influenzare dai risultati. E quindi proprio per questo motivo io credo che il messaggio che voglio mandare ai ragazzi è quello di essere consapevoli che sono una squadra forte, di essere consapevoli che debbono crescere, che debbono migliorare, maturare, però debbono avere dentro la loro testa e soprattutto dentro il loro cuore la consapevolezza che sono una squadra forte e il calcio alla fine è come il tempo, è galantuomo. E quindi barra dritta, petton fuori e avanti tutti. Grazie. Grazie.